Sei anni di reclusione e la richiesta della Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti dell'ex presidente della provincia di Agrigento, Eugenio Dorsi. Le accuse, concussione, peculato, truffa e abuso d'ufficio. Secondo la Procura, Dorsi avrebbe sfruttato il suo ruolo istituzionale per finalità private. Emblematica è la vicenda relativa ai lavori della Villa di Montaperto, per la cui costruzione, Dorsi, avrebbe fatto spregiudicato utilizzo della sua posizione pubblica di presidente della provincia regionale per ottenere vantaggi consistiti nella costruzione della struttura sostenendo costi irrisori. A chiedere i sei anni di reclusione l'ha giunto Ignazio Fonso ed il sostituto Carlo V. Il processo si sta celebrando dinanzi al Collegio del Tribunale di Agrigento presieduto da Giuseppe Melisenda Giambertoni. La Procura ha anche chiesto l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici per l'ex presidente della provincia. Era l'ottobre del 2011 quando gli venne notificato un avviso a comparire per essere interrogato come persona indagata. Ad Eugenio Dorsi la Procura ha anche contestato di aver fatto piantumare nel giardino della sua casa 40 palme che erano invece destinate agli spazi verdi pubblici come il giardino botanico. Nonché numerose ipotesi di abuso d'ufficio per aver ottenuto il rimborso di pranzi senza che risultasse adeguatamente motivato il fine istituzionale.